E noi ogni volta che ascoltiamo Bonomi ci convinciamo sempre di più che in questa discussione le ricette di Bonomi rappresentano il vecchio e noi rappresentiamo il nuovo perché sono ricette che sono già state sperimentate per 40 anni e anche i termini iniziano ad essere offensivi quando lui dice che non si deve avere un approccio punitivo verso le aziende qua non c'è un approccio punitivo qua si tratta di fare delle norme che impediscano quello che sta succedendo in GKN per il bene nostro e di tutte le altre aziende ed evidentemente se tu fai una norma prevedi anche delle sanzioni per impedire una delocalizzazione come questa il mondo in cui invece Bonomi vuole vivere è un mondo dove evidentemente Melrose può operare è un mondo dove se tu passi con il rosso non ti danno una multa ma ti danno dei soldi per provare a convincerti di non passare con il rosso successivo e se ripassi con il rosso ti devono dare altri soldi per non farti passare con il rosso successivo noi invece pensiamo che dopo che sei passato con il rosso e sei passato tante volte con il rosso perché c'è una lunga storia di delocalizzazioni non solo devi avere una multa il che probabilmente non ti spaventa perché questa gente non ha problemi di soldi ma devi anche essere invitato a scendere dalla macchina e dire che se la libertà di impresa è la libertà di distruggere un'impresa puoi andartene, puoi scappare e anche lontano ma la macchina intesa come stabilimento e come capacità di produrre valore aggiunto sul territorio rimane qua e lo Stato deve avere la capacità di far rimanere qua lo stabilimento cioè tu dici